Il primo segnale è subito quello valido, al comando NICE-T, nei confronti di Idole M, veloce dalla seconda fila del primo NICE, si ritrae in terza posizione NICE-Sharming, NICE-Sharming, con NICE-Sharming che da subito non imbarca, in seconda posizione NICE-Sharming, in quarta ammaccare Q, i primi 400 in 33-7 con la mossa a largo di My Way, anzi a chi ottiene il via libera. I primi 600 metri in 48-1, parziale veloce, però per passare 14-4, si riesce da 1-20, al comando My Way, nei confronti di NICE-T, poi l'idolo M, torino esterno e muto 2-wise, si affaccia anche in maccare Q, in terza pariglia, anzi in quarta pariglia, c'è Galeone perché ha spostato NICE-T, 17 impiegata, 1-5 in linea, i primi 800 metri, messo a pulva per ritornare al comando dopo un giro in 1-21-6. Supera nuovamente My Way, anzi a Galeone che allora sposta in forza nuota, vado a girare a muso duro wise e a cercare la testa della corsa, che completa questo paletto in 15-5. NICE-T, My Way, anzi, poi Galeone in terza corsia, maccare Q. Maccare Q sputta il rallentamento per la prova di spandare, 31-3-400, 15-8 la frazione, maccare Q che salta Galeone, e attacca NICE-T e ha un giro nella conclusione. Piesce a passare, maccare Q, dall'annino di gara in 2-7, 14-7 questo parziale. Maccare al comando, NICE-T è ritornato nuovamente per lì in esterno, My Way, anzi a guadagnare la posizione, Galeone in pariglia, deve metterlo sotto, poi NICE-T, abuso duro wise in terza pariglia esterna, 16-2 la frazione, 32-400. Pagano in vantaggio, NICE-T che ritorna aggressiva, poi My Way, anzi, prova ad avvicinarsi dal centro del gruppo Magica TR, 15-3-5 questo paletto, Galeone che a distanza anticipa Magica TR, va a protirarsi su NICE-T, mentre Maccare Q cerca di allungare, ma Galeone ormai è lì, 15-3 la frazione, e Galeone che rimonta a Maccare Q, i due che se ne danno lungo l'arto della curva a finele, poi Magica TR che sopravvanza, idolo M, NICE-T senza spazio, NICE-Sarming, Galeone che è passato in avvantaggio nei confronti di Maccare Q, quando si entra a centro della confusione, Galeone che viene a vincere, mentre per il secondo Magica TR, batte Maccare Q. 30 e mezzo, gli ultimi 4, 3 minuti, 24,